Il Re è sempre in avanti, così. Se no, un addivente mare Naro. Buona domenica ed eccoci anche oggi ritrovati al quotidiano spazio dedicato all'informazione. Sul barcone che è naufragato vi erano imbarcate 250 persone e fino ad ora sono stati recuperati 34 corpi, mentre i soccorritori hanno strappato dal mare 206 naufraghi. Questa è la mia testimonio. Noi non potrebbero stare in Nigeria. Molti sono morti, molti sono morti. La terra non è un paio per passare. La terra non è una strada. Oh, ma oggi siamo la terra. Noi non sono. Noi non sono. Noi non sono. in cui è brutto.